La prossima stagione sportiva del Pavia Calcio si aprirà senza il marchio storico ACI Pavia. È quanto emerso dall'ultima riunione dell'associazione SIU Pavia il gruppo di tifosi che se lo era giudicato all'asta nell'ottobre del 2019. Oltre il 94% degli associati ha votato affinché non venisse rinnovato il contratto di licenza e di utilizzo del marchio alla dirigenza guidata dal presidente Nucera. L'attuale società si legge nel comunicato dei SIU. Non rappresenterà più la squadra della città riconosciuta dai tifosi come Pavia Calcio. L'associazione prosegue la nota. Si riserva di tutelare l'immagine del marchio nelle sedi più opportune, fino a che non verrà individuata una nuova realtà che, sposandone il progetto, potrà far tornare il calcio a Pavia ai livelli che merita. Il DG Antonio Dieni ha annunciato che la società manterrà il logo che riporta la denominazione ACI Pavia 1911. A breve dovrebbe inoltrevenire presentato il nuovo marchio. Nel frattempo è sfumata anche l'ipotesi di una fusione con l'Oltrepò che avrebbe permesso agli azzurri di disputare il campionato di Serie D. La società di Broni si sta organizzando per affrontare il salto di categoria, mentre il Pavia dovrà rimanere un altro anno in eccellenza. E in Vialzaia si dovrà ora fare i conti con un tifo organizzato sul piede di guerra che già nel maggio scorso aveva chiesto le dimissioni di presidente e direttore generale.